C'è una quantità, una percentuale importante, a mia conoscenza 37% delle prescrizioni sono in fase di indagini preliminari e altrettante prima della fine del primo grado, quindi diciamo così è un problema da aggredire complessivamente. In parte la risposta è già stata data prima, cioè qui siamo di fronte a un intervento in materia di giustizia che è veramente un investimento grosso da parte dello Stato, forse dopo tanti anni in cui questo non accadeva. Cioè lo Stato sta investendo proprio per evitare che le lungaggini producano anche queste prescrizioni. Poco tempo fa, a marzo, siamo stati condannati dalla Corte Europea perché un processo si era prescritto addirittura nelle fasi delle indagini preliminari. Quindi la risposta è innanzitutto gli investimenti in organizzazioni, risorse, digitalizzazione. Secondo, la riforma prende per mano ogni singolo segmento del processo. Le faccio un esempio perché non penso di dover fare qui una lezione di procedura penale. Però sulla fase delle indagini preliminari, ad esempio, si sono rivisti i termini della durata massima delle indagini preliminari. Si è dato un potere al giudice delle indagini preliminari di sollecitare il Pubblico Ministero se non ha finito. Scaduto il termine, devi decidere o archivi o rinvia giudizio. Si è dato un potere anche alle parti, all'indagato, ma anche alle vittime di chiedere la cosiddetta discovery proprio per incentivare una conclusione di questa fase che in molti casi dura troppo a lungo e tiene tra l'altro gli imputati in uno stato di grande incertezza.